La Polizia di Stato celebra il 171esimo anniversario dalla sua fondazione, un lungo percorso durante il quale si è voluta insieme alla società, per essere al passo con i tempi e al servizio delle istituzioni e dei cittadini, obiettivo riassunto nel motto «Esserci sempre». Numerose le autorità intervenute, la cerimonia che a Macerata si è tenuta presso la caserma Pasquale Paola, in Via dei Velini. Dopo la deposizione da parte del prefetto e del questore di Macerata di una corona di alloro al monumento dedicato ai caduti della Polizia di Stato, la cerimonia presso il piazzale della caserma è proseguita con la lettura dei messaggi augurali del Presidente della Repubblica, del Ministro dell'Interno e del Capo della Polizia. Ha preso poi la parola il questore di Macerata Vincenzo Trombadore. Questa è la ricorrenza della fondazione della Polizia di Stato, 171esimo anniversario, perché tutto prende il spunto dal 1852 con una costituzione di un gruppo consolidato, anche se già c'era qualche espressione prima di presenza istituzionale. Il bilancio è quello che è una rendicontazione della stessa società, una società che è costruita da cittadini, poliziotti, cittadini che aspettano la collaborazione dei propri consociati. La mission di quest'anno, come degli altri anni, e deve essere sempre migliorata ancor più, è quella di stare con i propri cittadini, di raccogliere quelle che sono le esigenze, di portarle avanti, di farle proprio, condividere, per poter essere poi tutti i cittadini tutelati nella loro manifestazione del pensiero, nelle loro espressioni di richiesta di tutela. Allora una mission viene qualificata e viene rispettata se noi registriamo questo tipo di esigenze. Durante l'evento, che caratterizza la giornata del 171esimo anniversario, sono stati premiati gli studenti delle classi degli istituti scolastici di San Severino Marche, Matellica e Macerata, risultati vincitrici del concorso Pretendiamo Legalità, indetto dal Ministero dell'Interno per l'anno scolastico 2022-23. Come tradizione è premiato anche il personale che si è distinto nelle operazioni di maggior rilievo, uomini e donne della Polizia di Stato, il cui lavoro quotidiano si proietta tra la gente. È un ruolo importante perché siamo stati la prima amministrazione nel 1981 ad ammettere le donne e ritengo che il ruolo è paritario oggi per la mia esperienza personale. Io sono la vice responsabile della sezione antidroga e mi trovo molto bene a lavorare con i colleghi e con le colleghe della questura. Ho preso la maturità classica, mi sono arruolata in Polizia proprio per passione, quindi vengo dalla squadra mobile di Milano e sono praticamente 32 anni che lavoro in una squadra mobile, quindi sempre servizi investigativi, sempre sul territorio. Premiata per quale operazione, riconoscimento? Un'operazione che risale al 2019, sei arresti per traffico di sostanze stupefacenti in Porto Recanati. Premiato nella stessa operazione anche il responsabile della sezione antidroga, Gianluca Romagnoli, prossimo alla pensione dopo 42 anni di servizio. Posso dire che è un'esperienza bellissima, straordinaria, anche perché sicuramente sono tra i più anziani d'Italia, ancora, perché ho 42 anni di attività vera, operativa. La cosa più bella è ricevere come oggi questi ragazzi delle scuole, perché nel nostro motto è la polizia tra la gente, quindi vedo attraverso i ragazzi, vedo attraverso il nostro lavoro il futuro di una nazione democratica. 42 anni di servizio, quanti a Macerata? Dal 1990, 10 anni a Milano e i resti sono fatti tutti qua. Sempre servizio operativo, investigativo, di settore, quindi traffico nazionale e internazionale di sostanze stupefacenti.